Mamma mia, cioè, voglio assolutamente fare queste Instagram stories insultandoti, cosa vuol dire tutto il tuo team vestito da Philip Lane? Bleh, pure i tuoi pantaloncini, zio che schifo! Mi sono soffiato il naso con il faccioletto che ho in tasca, che è principalmente solo per estetica e spero che nessuno se ne sia accorto, ma intanto vi sfoggio il mio loro raggio d'oro, figli di puttana poveri! Bene, sono le 6 di mattina e siamo ancora qua È un barco Amore, ma lei è figa però La vera domanda adesso è Cosa cazzo faccio? Sono le 7 di mattina Knockout tecnico La vera domanda è la T-Mobile Arena Buongiorno! 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 no i thought i took the early rounds pretty handy he had to change his style i'm afraid bleik onwha did he adjusted it he changed his style put the hands of him all forward he's composed he's not that fast he's not that powerful but boy is he composed in there so he was making me and he was making me and I offered me a bit of aiko lamic me and I was gonna get smashed Siamo qui a vedere l'incontro McGregor Mayweather e se non siamo andati a vederlo a Las Vegas è tutta colpa sua perché... Dillo? Dillo? No, eri un tamarro. Come un tamarro? Io volevo andare a prendere i biglietti che faceva la passerella con McGregor e lei non... Che poi all'inizio no? Mi dicevo io non so che cazzo sono questi adesso è tutta gasata, no? Chi ha che tifi? McGregor. McGregor, l'altro non ti piace? Mayweather no, non mi piace più McGregor. Viva Conor! Come mai questi occhiali? Sono molto belli. L'ho già visti da qualche parte io. Si è talmente gasata che mentre siamo in macchina si sta guardando il match. Perché abbiamo una cena! La nostra cena tranquilla e... Stiamo guardando l'incontro. We ended up being at a restaurant fried dinner and we're watching the game. McGregor, noi ti chiamo McGregor, eh? Yeah, go Conor! Nooo, ha perso McGregor. È tristissima. Nooo.